Lotta all'evasione fiscale, al fenomeno della contraffazione, alle truffe e agli illeciti amministrativi. La Guardia di Finanza è sempre più impegnata in questi tempi a combattere i crimini di natura amministrativa e l'ausilio della procura è fondamentale. Ecco perché la visita del nuovo procuratore di Teramo Antonio Guerriero al comando provinciale delle Fiamme Gialle rappresenta una tappa fondamentale del giro che lo stesso procuratore sta facendo in questi giorni. Io credo che non ci sia un'indagine di grande spessore che ormai non coinvolga la Guardia di Finanza. Il codice penale non può essere il codice solo del bosseggiatore. Deve sapere individuare i fenomeni maggiori che riguardano i flussi economici visto che attraverso le persone giuridiche passano le attività economiche e quindi l'importanza strategica ai fini investigativi della Guardia di Finanza. solo nell'ultimo anno e mezzo abbiamo effettuato oltre 60 milioni di sequestro per equivalente e questo vi dà la dimensione dell'importanza degli accertamenti che nascono da evasione fiscale e da altro. Basta pensare che questa nostra terribile spending review che determina poi la riduzione di tantissimi servizi attraverso i comuni, le province, viene effettuata perché abbiamo fasce rilevanti di evasione fiscale in una proporzione nell'ambito europeo maggiore. Noi abbiamo accertato attraverso le indagini sviluppate anche in Campania come i vertici dei soldalizi mafiosi non siano più gestiti dai vecchi padrini ma da imprenditori e imprenditori mafiosi perché solo l'imprenditore mafioso ha una dimensione e una cultura imprenditoriale tale da poter gestire un'impresa come un clan camorristico. Non è un caso poi che ad accogliere il nuovo procuratore c'era anche il comandante regionale il generale Flavio Agnello. In tutti i casi in cui si configurano reati economico finanziari la magistratura per noi è un punto di riferimento costante e anche qui nella provincia di Teramo le nostre attività, le nostre indagini sono rivolte soprattutto agli illeciti di carattere fiscale sia per quanto riguarda l'evasione fiscale di massa che per quanto concerne l'evasione più propriamente interpretativa senza dimenticare tutto il fronte della spesa pubblica e di tutti i connessi fenomeni anche di probabile infiltrazione della criminalità organizzata. In questo senso i rapporti che avremo e che abbiamo già instaurato con il nuovo procuratore della Repubblica saranno ancora più profiqui perché lui proviene proprio da esperienze in terra campana dove la criminalità organizzata ovviamente attecchisce molto di più quindi sarà sicuramente un quid pluri su un punto di riferimento costante.